ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale sono reduce da un'altra meravigliosa diretta dal magazzino di perline film in co oggi infatti c'è stata la diretta quindi sto registrando subito questo video per poi metterlo online e renderlo pubblico dal momento in cui saranno rese pubbliche le inserzioni da analisa le inserzioni riguardanti le novità e i kit che sono stati presentati quest'oggi qua vedete un kit un kit meraviglioso sbrillucicoso che adesso andremo a vedere insieme poi vi parlerò appunto anche delle altre cosine non sono tante di kit ne è stato fatto soltanto uno per quanto riguarda le perline in quanto analisa ha deciso di fare degli sconti di halloween quindi vi da la possibilità di farvi i vostri kit personalizzati in un certo senso perché potrete riempire i vostri carrelli ed ottenere uno sconto del 15 per cento su tutto ovviamente sono esclusi da questi sconti come sempre gli articoli già scontati e i kit qui davanti invece vedete un kit appunto a un prezzo vantaggiosissimo che però ovviamente non fa parte della promozione perché quando vi dirò il prezzo veramente un prezzo wow qua vedete dei bicono e sono dei bicono che adesso andremo a vedere insieme sono bicono in cristallo austriaco della famosa marca di cristallo austriaco che tutte conosciamo e ora vediamo appunto il contenuto sono otto colori uno più bello dell'altro vediamoli insieme come vi dicevo otto colori per ciascun colore ci sono 48 pezzi sono appunto bicono in cristallo austriaco guardate adesso le colorazioni parto da quella che da cui siamo partiti in diretta ma c'è l'imbarazzo della scelta perché sono tutti colori stupendi ecco qua guardate che meraviglia questo dovrebbe essere il violet opal ed è stupendo guardate che meraviglia bellissimo quindi la prima colorazione abbiamo poi questo guardate questo se non ricordo male è il rose saten bellissimo poi abbiamo quest'altro che adoro guardate che meraviglia è il metallic blu 2 per è una colorazione che dà una luce pazzesca bello 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 guardate che è spettacolo procediamo con questo ecco guardate anche questo i colori opalescenti poi mi piacciono veramente un sacco da sempre questo il rose water opal sono tutti colori che nel tempo utilizzato tantissimo per questo mi sentite abbastanza sicura anche nel riconoscere i nomi procediamo con questo guardate che meraviglia il mint alabaster bellissimo procediamo con un'altra colorazione opalescenti che adoro il pacifico pal stupendo veramente guardate che spettacolo guardate anche questo che meraviglia il palace grino opale sono veramente tutti i colori spettacolari per finire l'ottavo colore la meraviglia delle meraviglie un altro colore opalescenti quindi guardate che spettacolo i caribian blu opal è veramente un colore meraviglioso stupendo quindi questo è un kit di otto colori 48 pezzi per ciascun colore sono bicono in cristallo austriaco della marca famosa che tutte quante conosciamo il prezzo è un prezzo bomba che vi lascio però scoprire da sole perché veramente è un prezzo fantastico considerando anche l'articolo che andiamo ad acquistare e in finiture particolari quindi vi lascerò il link qui sotto come sempre sapete che i kit sono a numero limitato proprio perché anche molto vantaggioso quindi vi consiglio se siete interessate di affrettare l'acquisto e di approfittare anche magari di più kit per avere una disponibilità maggiore perché sono veramente colori bellissimi e un'occasione di prezzo assolutamente irripetibile oltre a questo kit quindi oltre a questi fantastici bicono analisa ha mostrato tanti nuovi arrivi per quanto riguarda le super duo quindi nuovi inserimenti di super duo e di altre perline che inserirà appunto in questi giorni io credo che come al solito saranno online tra sabato e domenica comunque dal momento in cui ci sarà il video troverete tutto quanto disponibile sul sito quindi anche tutte le novità che sono arrivate quest'oggi e fate vedere faranno parte degli sconti ovviamente sto parlando delle perline che ha mostrato da sito quindi non di questo kit perché come vi ho detto è già stato proposto a un prezzo super super vantaggioso quindi troverete tutti quanti le novità inserite da sito lo sconto del 15% per Halloween che sarà già attivo dal momento in cui vedrete questo video altra meravigliosa novità della diretta di quest'oggi è stato il lancio di un kit di una creazione meravigliosa un progetto stupendo della bravissima Melissa Campagnolo Muros Creation qui su YouTube che sicuramente tutte quante conoscete è un paio di orecchini appunto bellissimo proposto in quattro versioni quindi il kit disponibile in quattro versioni di colore vi lascerò il link anche del kit qui sotto nell'info box e vi lascio qui di seguito la slide con tutte e quattro le colorazioni così potete vedere il modello e le colorazioni disponibili ve le lascio qui subito avete visto dunque quanto è meraviglioso questo progetto quindi troverete il link anche di questi kit qui sotto nell'info box appuntamento veramente ghiotto di questa diretta tantissime novità gli sconti di Halloween il kit di Melissa i bicono in cristallo ostriaco che vedete qui davanti è veramente una diretta come sempre meravigliosa che io cerco sempre di trasmettervi anche qui sul canale se non avete seguito appunto la diretta su Facebook io quindi vi ringrazio per la visione ringrazio come sempre Annalisa per la sua ospitalità durante le dirette e noi ci vediamo alla prossima ciao